L'Accademia Licata perde in casa del Carini 1-0 e il punteggio finale sancito alla rete di La Fata e deve rimandare il brindisi per la matematica salvezza. C'è da dire che manca però davvero poco e basterà pareggiare domenica prossima al Dino Liotta contro il già salvo Castel Termini per arrivare a quota 37 e diventare irraggiungibile per le altre concorrenti nella lotta per non retrocedere. A Carini è maturata una battuta d'arresto di misura, nel complesso è meritata per Capitanna Puccio e compagni che hanno anche colpito una clamorosa traversa con Bo vissuto sullo 0-0. Sul punteggio di parità grande occasione anche per i padroni di casa che hanno fallito un calcio di rigore e disinnescato con bravura dall'ottimo e estremo difensore giallo-blu, Savaia. A commentare a caldo l'esito del match è stato il presidente dell'Accademia Bruno Vecchio. Abbiamo dominato anche questa gara, mi è sembrato di rivedere lo stesso film visto a parte Nico 15 giorni fa le sue parole. Ritengo che non meritavamo di perdere e malgrado la formazione ampiamente rimaneggiata abbiamo condotto alla grande la partita rischiando più volte di trovare la rete del vantaggio prima di incassare il gol partita. Il massimo esponente giallo-blu recrimina per le occasioni sprecate e per l'espulsione di Ortugno che ridurrà ancora le scelte in vista del decisivo match di domenica contro il Castel Termini che può valere la salvezza anticipata. La traversa colpita da Bo vissuto reclama vendetta, continua Bruno Vecchio e anche sul calcio di rigore assegnato al Carini c'è molto da ridire. Nell'occasione è stato inoltre espulso Ortugno che domenica mancherà aggravando la nostra situazione di emergenza. Nella gara di oggi abbiamo schierato inoltre gente mezza infortunata e altri atleti non al meglio. Strada spianata quindi per l'Accademia Licata e il successo del Castel Termini su Castellammare è coinciso infatti con la matematica salvezza degli agrigentini che domenica al Dino Liotta potranno giocare senza l'assillo della vittoria. Ovviamente il punto va conquistato sul campo ma le motivazioni dell'Icata Calcio saranno sicuramente più alte di quelle del Castel Termini e pertanto c'è da scommettere che i gialloblu proveranno in tutti i modi possibili a non lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di festeggiare in casa il raggiungimento della salvezza matematica.